Coltivazione, produzione ed ora anche consegna ecocompatibile. L'ultimo nato in casa Quarta Caffè per il progetto Natura è questo furgoncino elettrico. Ecologico al 100%, totalmente silenzioso, carico di confezioni di caffè, lo vedremo in giro per le strade di Lecce a consegnare i pacchi. Prodotto da Vetef SRL, il furgoncino fa 180 km con 1,49€ di energia elettrica. Ricordiamo che noi siamo stati la prima azienda in Puglia, una delle prime in Italia, a dotarci proprio di un sistema di ecocompatibilità aziendale, realizzando la torre eolica, i pannelli fotovoltaici, i pannelli solari, il protocollo di intesa con la forestale per la piantumazione intensiva. Adesso con questa opportunità inizieremo anche a fare una prova per la commercializzazione, sempre in un indirizzo di ecocompatibilità. La presentazione ufficiale del mezzo è stata salutata dall'entusiasmo di una scolaresca di Melendugno in visita nell'azienda, per insegnare ai più piccoli che si può fare impresa nel pieno rispetto della natura.